Questa che vedete è una panoramica del territorio dove c'è il monastero benedettino di Invimua. Vicino c'è il terreno dove nascerà il gruppo familiare di Lomadelfia, che i monaci hanno benedetto. Dopo lo scarico dei mezzi abbiamo iniziato i lavori al terreno, tagliando piante e cominciando lo sterro. Durante il lavoro c'è capitato fra le mani uno dei serpenti più velenosi al mondo, il Green Mamba. Nel lavoro non siamo soli. Nelle nostre fatiche siamo aiutati dai monaci e dai bambini. I mezzi hanno sempre dei problemi, ma fortunatamente al monastero c'è un bravo meccanico, Evodius! E non Danke. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un avvenimento importante è stata la linea dell'acqua e il collocare una botte per dare la possibilità a lavoratori e persone del posto di lavarsi e bere Fratello Fuoco che illumina è giocondo, robusto e forte Qui cuoce i mattoni che serviranno per le costruzioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti